Siamo a Preano, questo è l'area, il punto dove è avvenuta la rapina questa mattina. Infatti siamo qua al centro e pare che si è arrivata verso il nuovo. Salve, non sapevi niente di voglia di questa rapina? Non so, non so, non so, non so. Ma lì dentro, hanno fatto tre anni. Due ragazzi con le mani armate l'hanno fermata. Non so, non so, non so, non so. Però c'era gente, non è meglio. Non so, 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 non so. Vabbè, grazie. Vuola questo. Ecco qua. Stavo vicino all'ufficio turistico. Stiamo a Preano.